di nuovo qui seconda parte della nostra rassegna stampa per questo lunedì 14 marzo prima di andare a trattare diversi temi riportati sui quotidiani nazionali e locali questa mattina presentiamo doverosamente gli ospiti due onorevoli a dentro la notizia per questo lunedì saluto e ringrazio qui al mio fianco al tavolo di dn l'onorevole rosa maria di giorgi partito democratico buongiorno buongiorno a voi tutti collegato invece con noi l'onorevole claudio borghi della lega buongiorno buongiorno allora sul tema più delicato e anche più battuto con profusione d'inchiostro naturalmente dai nazionali ci concentreremo tra poco ovvero il conflitto tra russia ed ucraina parleremo anche del tema dei rincari con la crescita a dismisura del prezzo della benzina e del carburante con la protesta che è già scattata dei tiri autotrasportatori questa notte potremo anche vedere delle immagini prima però soffermiamoci su delle tematiche più nazionali così definiamo le vado subito dall'onorevole di giorgi perché il 31 marzo si sta avvicinando no una data significativa perché scadrà lo stato d'emergenza covid per il nostro paese ancora una roadmap o comunque un calendario ufficiale di tutte le altre scadenze che si succederanno non è stato diramato a dir la verità si è intuito che il green pass rafforzato non sarà più valido per determinati luoghi come i bar e i ristoranti all'aperto ma non si è ben capito se comunque resterà in vigore quello base insomma ancora manca un po' di chiarezza due giorni fa tre giorni fa attunato attraverso le proprie piattaforme social la leader di fratelli d'italia giorgia miloni a causa di un dpcm quindi senza opportunità di dibattito parlamentare approvato con delle misure varate per la modifica e l'aggiornamento di tutte le modalità per poter controllare sia lo stato vaccinale dei cittadini che la stessa carta rafforzata allo stesso green pass c'era questa grande paura della proroga di 540 giorni fino al 2025 poi diciamo ha rettificato con una nota al ministero della salute ha detto si è trattato di aggiornamento automatico per non incontrarsi ogni sei mesi però c'è questa paura che si possa in qualche modo prorogare questo strumento il green pass per ulteriori sei mesi perché alcuni cittadini sono spaventati è vero che il covid c'è non è che se n'è andato onorevole ci mancherebbe però il covid c'è ancora come sappiamo da queste ultime ore dai dati che ci sono quindi io direi che la cosa da raccomandare a tutti vedremo indipendentemente da quello che poi deciderà il governo il parlamento insomma vedremo che cosa succederà io credo che sia necessario che tutti continuino ad usare prudenza comunque perché si è capito e si è visto in queste ore che se tutti riteniamo che il covid non ci sia più ecco che risale risalgono i contagi e alla fine il pericolo si ripropone per cui rispetto alle misure le misure come sappiamo tutti sono arrivate quando è stato necessario che arrivassero troppo dure troppo morbide per alcuni insomma chiaramente il dibattito l'abbiamo seguito tutti in questi mesi e anche in queste settimane tutti noi siamo stufi ovviamente perché la vita normale interesserebbe tutti noi certamente c'è bisogno di salvaguardare la salute pubblica per cui ci saranno valutazioni che verranno fatte e decideremo di conseguenza quindi io credo che avere fretta non sia mai una soluzione tra le migliori quindi cerchiamo di capire vediamo se ora c'è la bella stagione sicuramente andiamo verso una situazione meno pesante però insomma non dobbiamo anche prepararci ad essere tutti più prudenti e più tranquilli rispetto a questa cosa perché vedete le vaccinazioni si stanno fermando si sono fermate non è che se adesso il virus va un po' meno perché per una serie di motivi non ultima anche la stagione che si sta la buona stagione che sta arrivando e poi una serie di vaccini anche l'anno scorso è stato così però i vaccini vanno fatti perché poi ritornerà l'inverno le quarte dosi però stanno proseguendo per i vulnerabili per i super fragili sì ma soprattutto non ci sono più i bambini non vengono più vaccinati e questa è una scelta che francamente le famiglie bisogna che rimettano in discussione cioè non è che è finita i bambini vanno vaccinati ce lo dicono tutti tutti i medici e sarà bene che questo venga fatto invece è tutto francamente fermo ieri sera avete visto sono stati dati in una nota trasmissione anche gli ultimi dati che noi avevamo poi io seguo un po' la scuola quindi sapete che di questo mi occupo insomma le famiglie non stanno più vaccinando i bambini vuol dire che anche in Toscana la curva epidemiologica onorevole Borghi ha pericolosamente rialzato la testa no è un appello di preoccupazione che è stato sottoscritto o meglio lanciato anche dallo stesso presidente della regione Toscana Eugenio Gianni la data del Green Pass onorevole ha una validità tecnica collegata alla durata del sigillo qualificato detto così non si capisce nulla diciamo la verità però sostanzialmente è questo che era trascritto nel DPCM che poc'anzi ho citato tanto stigmatizzato tanto criticato da Giorgia Meloni però alla fine si tratta solo di aggiornamento automatico è stato preso una baglia una cantonata lei è fiducioso che il Green Pass nel tempo verrà rimosso revocato ma vede come come è noto io non sono esattamente un autore del Green Pass si è noto onorevole è noto il Green Pass dati alla mano è una misura che si è rivelata del tutto fallimentare è stato estremamente divisivo estremamente penetrante nella nostra società creando divisioni creando rabbia creando discriminazioni però uno a un certo punto potrebbe dire io non sono fra quelli per me non si sarebbero dovuti creare queste discriminazioni in nessun caso però uno avrebbe potuto dire beh insomma abbiamo creato discriminazioni siamo entrati pesantemente nel diritto al lavoro persino no degli italiani ma rispetto a chi non l'ha fatto i nostri contagi i nostri le nostre ospedalizzazioni o similari sono state un decimo rispetto a quello degli altri e invece non c'è stata nessuna differenza rispetto a paesi che hanno fatto scelte differenti nessuna non non rilevabile perché uno può anche andare a vedere ah guarda qui abbiamo avuto il 2% in meno dall'altra parte 3% in più ma nessun tipo di differenza che giustificherebbe una così terribile invasività nella vita degli italiani guarda onorevole percepisco un po' di contrarietà da parte della sua collega però la faccio finire no ma mi rendo mi rendo conto però insomma i numeri sono quelli poi uno può dire quello che vuole il dall'altra parte invece quel dpcm che ha citato prima effettivamente che ha creato diciamo allarme in molti cittadini mi verrebbe da dire che effettivamente è una questione tecnica vale a dire io quando ho chiesto ragione di questo dpcm mi è stato risposto che non è che si intendeva dire si rinnova il green pass di 540 giorni intendeva dire che dato che l'ultimo regolamento aveva previsto il famoso green pass illimitato no per per così dire per chi aveva completato il ciclo vaccinale piuttosto che per chi era stato guarito dopo 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 due dosi si è particolare la regola similare esatto esatto il sistema che è un sistema che deve parlarsi con gli altri sistemi internazionali per intendersi non è esclusivamente italiano non 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 capiva il concetto di illimitato no e allora bisognava mettergli una data per quanto avanti nel tempo che consentisse di non non doverlo rinnovare per cui quello penso che sia stato un allarme social dove qualcuno insomma ci si è buttato perché meglio di questi tempi meglio essere oggettivamente prudenti e agitarsi qualcuno onorevole vuol dire giorgia meloni l'ho fatto io il nome tanto insomma è diventato virale il suo intervento è sulle piattaforme ma lei ha dato ha dato voce insomma la preoccupazione di tanti altri cittadini che sono venuti anche a chiedermi chiarimenti guardi le integro una provocazione tra un attimo vorrei far replicare l'onorevole uno strumento francamente inutile questi sono dati alla mano d'accordo col suo collega no ovviamente no non sono d'accordo perché i dati ci dicono che comunque con la vaccinazione e con la verifica di questo quanti sono la vaccinazione ha criticato per il suo collega il green pass no ma diciamo che determina determina poi è la vaccinazione che determina poi un green pass che deve essere in qualche modo valido meno a seconda della vaccinazione che abbiamo fatto no in questo senso sto sto facendo il collegamento e quindi direi che i dati ci dicono che abbiamo avuto molte meno ospedalizzazioni che abbiamo avuto un impatto del virus molto ma molto inferiore rispetto a quanto ci saremmo potuti aspettare allora se mettiamo insieme tutto non è che si può leggere una misura poi un'altra un'altra ancora noi dobbiamo fare un po il complesso della della una valutazione complessiva di tutte le misure che sono state messe in campo e quindi io ritengo che invece ci sia una bella differenza rispetto a coloro ai paesi e anche alle situazioni in cui non c'è stato questo complesso di interventi anche antipatici figuriamoci io non voglio mica dire che tutto che va tutto si pensi sui luoghi di lavoro per gli over 50 per quelli che non si sono sottoposti al trattamento senza stipendio a casa e lo so però diciamo il nostro obiettivo era quello l'obiettivo del governo il nostro della maggioranza insomma anche anche il partito dell'onorevole Borghi fa parte della maggioranza era quello di imporre certamente un cammino di vaccinazione perché ritenevamo che quello fosse che quella fosse la misura unica utile opportuna perché questo contagio si fermasse quindi a un certo punto abbiamo dovuto fare lei pensa che ci piaccia aver bloccato gli stipendi alle persone ma stiamo scherzando il problema è che secondo noi siamo contenti di aver fatto questo no di certo però di fatto come si fa a far sì che le persone in qualche modo si sottopongano a quella che riteniamo sia una misura che è di salvaguardia per tutti e purtroppo abbiamo dovuto fare così. Ha capito onorevole? È così. È un ricatto però però tu non l'hai definito. Ognuno lo chiama. O un'imposizione necessaria. Non lo so. Per noi è un'imposizione necessaria. Per lei è un ricatto. Ha un'imposizione necessaria ma se noi prendiamo cosa è successo? Non so per dire non dico in Svezia che sono biondi e quindi sono diversi da noi ci sono le renne ma prendiamo in Spagna. In Spagna che è un paese molto simile al nostro non c'è stato nessun obbligo non c'è stato nessun green pass perché hanno più vaccinazione di noi e perché hanno dati di contagi assolutamente analoghi. Le posso fare anche l'esempio della Gran Bretagna più volte è stata criticata speramente anche dai rappresentanti dei partiti politici di diversi partiti politici del nostro paese se non sbaglio due settimane fa è stato celebrato il Freedom Day. Addirittura se positivi non si va più in isolamento o in quarantena. Pensi? Peeling molto in crescita in modo molto più sostanziale rispetto al nostro perché non ci sono stati impedimenti all'attività produttiva e quindi uno può dire quello che vuole ma i numeri sono quelli lì. Nel senso i paesi che non l'hanno fatto, che non hanno fatto il Green Pass non hanno differenza. Onorevole, le posso fare una provocazione? All'interno del partito, del suo partito ovviamente più che della coalizione del centro-destra, la sua posizione di severa condanna, mi passi il termine e di aspra critica, acerbo rimprovero nei confronti di questo strumento del Green Pass come viene vista? Perché si è parlato, non nascondiamoci, di correnti diverse all'interno del carroccio, quella salviniana, quella più moderata, giorgettiana se vogliamo. Era stata vista con dubbio perché non sto dicendo ovviamente niente di segreto se penso che tanti nel mio partito erano convinti che il Green Pass avrebbe aiutato a combattere i contagi anche se la posizione dei governatori ovviamente era mediata da quella del governo. È ovvio che se il governo andava dai governatori e gli diceva sai cos'è la scelta? O Green Pass o lockdown. E a un certo punto il governatore dice viva il Green Pass, piuttosto che quello. Però questo è stato oggettivamente uno dei grossi inganni messi in pista da Speranza, dal CTS e simili, vale a dire proporre come alternativa o il Green Pass o il lockdown. Si poteva anche, ripeto come hanno fatto altri paesi, non fare né il Green Pass né il lockdown, andare avanti con prudenza, con i distanziamenti, con avvertenze. Le imposizioni tassative che abbiamo imparato ad osservare e rispettare rigorosamente. Ha fatto presente l'onorevole Michiù da lei con una chiosa su tutto questo. Ricordiamo, onorevole, che dal 31 marzo però le strutture e alcuni strumenti che ha citato poc'anzi il suo collega non ci saranno più, come ad esempio il Comitato Tecnico Scientifico. Credo, da quel che ho capito che non si potranno più varare dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rimarrà, almeno per le prime settimane di aprire, la struttura commissariale che fa capo a Figliuolo. Anche qui credo di aver capito perché, come detto, manca un po' di chiarezza e ufficialità. Sì, ora, la chiarezza e l'ufficialità. Dobbiamo vedere anche il contagio. Cerchiamo di tornare sempre alla realtà delle cose. Per cui tutti siamo per eliminare tutto. Vediamo se ce lo potremo permettere. Quindi, indubbiamente, ci saranno degli atti normativi che andranno in una certa direzione che io auspico sia quella desiderata da tutti noi, da tutte le nostre famiglie, da tutti i cittadini italiani e dalle attività produttive soprattutto, perché è evidente che c'è bisogno adesso di ripartire e non parliamo dell'altra vicenda, guerra, che sta incidendo ovviamente in modo drammatico, assolutamente drammatico, su questa situazione. Però, insomma, mi terrei anche sull'analisi dei dati medici e scientifici e dalle valutazioni che vengono fatte anche regione per regione, perché ancora non siamo in una situazione di tranquillità. Quindi questo noi per primi dobbiamo dirlo. E quindi invitare alla prudenza. Cittadini, dovete ancora stare prudenti. Meglio qualche ora di mascherina in più che qualche ora di mascherina in meno, perché questo aiuta tutti. E su questo io credo sia l'unica cosa da dire in questo momento. Anche una prudenza individuale, insomma, cercando di proteggersi. All'insegna della prudenza, della cautela e valutare tutto con discernimento. Due posizioni differenti. Vado dall'On. Borghi per cambiare tema e ci aiutiamo anche, come sempre, d'altra parte con l'ausilio della nostra precisissima e puntuale regia, perché le immagini sono di questa notte, oggi lunedì 14 marzo, è cominciato ufficialmente il blocco nazionale dei TIR a causa del caro carburante. La motivazione fornita attraverso una nota dei canali ufficiali dell'Associazione in questione dei sindacati è causa di forza maggiore, diciamo, da interpretare invece con costo insostenibile del carburante. Abbiamo anche potuto guardare un servizio nella prima parte di Rassegna Stappa con i primi fornitori, ovvero le pompe di benzina, che stanno cominciando a chiudere anche in Toscana. Onorevole? No, noi non possiamo permetterci un blocco dei TIR. Non possiamo permettercelo e mi verrebbe voglia in questo momento di ricordare i primi momenti della pandemia, quelli più drammatici, quando c'era il lockdown, quando eravamo tutti chiusi in casa senza sapere col terrore di cosa ci fosse fuori dalla porta. I guidatori dei TIR, all'epoca definiti eroi, mi pare di ricordare, non si fermarono un secondo. Portarono tutti i beni di cui avevamo bisogno nei supermercati di tutta Italia e anche di fronte alla paura di tutti i cittadini non ci fu nessun disagio dal punto di vista dell'approvvigionamento dei materiali. Ora, questi eroi, secondo me, è il caso di aiutarli. Non dovrebbe essere impossibile, nel senso che tanti altri paesi in Europa hanno preso degli interventi anche drastici per venire incontro e mitigare la questione dei rialzi del… Mi faccio un esempio di un intervento drastico, onorevole, per esaminare. Ne dico due. L'Irlanda ha zerato le accise momentaneamente, tanto per dirne una, piuttosto che la Francia ha deciso che le bollette dei cittadini non possono alzarsi più del 4% rispetto all'anno scorso. Voi capite che se noi dobbiamo… Se un'industria italiana che si trova una bolletta triplicata deve competere con un'industria francese che si trova una bolletta uguale a quella dell'anno scorso, più 4%, la nostra chiude e quella francese apre. E poi cosa diciamo? Che l'Europa è il luogo dell'amore e della concorrenza. È una bella concorrenza così. Vediamo anche queste immagini, sono abbastanza simboliche di quello che sta accadendo. Hanno promesso un presidio, comunque sia una protesta, un blocco ad oltranza. Siamo sull'autostrada 1 a 1 di Caserta. Vado anche dal onorevole Di Giorgi, inevitabili le ripercussioni. Poi sui rifornimenti dei supermercati mi viene da pensare cosa succederà nei prossimi giorni. Assolutamente, no, io su questo concordo assolutamente con l'onorevole Borghi. Cioè c'è bisogno che i nostri ministri economici, che noi in Parlamento, insomma, diamo una forte spinta rispetto a questo perché è evidente che gli interventi devono essere urgentissimi e necessari proprio per i temi che benissimo accennava, ossia quelli della concorrenza. Noi abbiamo già delle aziende, piccole imprese, imprese che stanno chiudendo perché non ce la fanno. Arrivano queste bollette che nessuno è in grado di sostenere, addirittura anche nel mondo dello sport, non soltanto il mondo più produttivo ma il mondo dello sport, le piscine. Recentemente una piscina nell'Empolese. Sappiamo bene, quindi per fare gli esempi più noti che hanno occupato le pagine anche dei giornali. Quindi è chiaro che dobbiamo fare un intervento in questo senso, ma in questi giorni, in queste ore, allora dobbiamo mettere le nostre imprese in condizione di poter sopravvivere. E purtroppo, come sempre, in questi casi c'è bisogno dell'intervento dello Stato. Le accise non è che sono un optional, diciamo, leviamo le accise. È chiaro che sono tasse e queste vanno allo Stato e poi servono per far funzionare gli ospedali, per far funzionare le scuole, eccetera. Però in un momento come questo è chiaro che dobbiamo fare delle scelte serie che sono quelle di far sopravvivere l'apparato produttivo dell'Italia. Questa situazione dimostra l'imprudenza del Paese nel non aver diversificato maggiormente le fonti di energia e soprattutto i fornitori negli ultimi decenni. Lo ha sostenuto il Premier Draghi, si è sostenuto il Presidente del Consiglio. Onorevole. Ma, se mi posso permettere, sì e no, nel senso che il prezzo, il fatto di avere un diverso approvvigionamento è una questione di sicurezza, cioè, vuole dire, impedisce di rimanere al buio. Ma non siamo arrivati a questo, fortunatamente. Un diverso approvvigionamento, però, se il prezzo è quello internazionalmente, non è che cambia. Quindi non è che se io prendo il petrolio dalla Libia, come sarebbe opportuno per l'Italia, me lo regalano. Cioè, il prezzo della Libia, del petrolio della Libia, è internazionalmente esattamente quello che ci potrebbe arrivare dall'Azerbaigiano o da altre parti. Cos'è il punto, però? Motivo per cui noi avevamo chiesto da tempo uno scostamento di bilancio, cosa che, invece, con una curiosa testardaggine, perché di solito è ragionevole, il Ministro fino adesso non ha voluto concedere. Perché bisognava, ci vogliono dei tempi tecnici, no? Cioè, il Parlamento, per fare uno scostamento di bilancio, vale a dire, per avere i soldini da poter distribuire in sostituzione, appunto, delle accise. E ha bisogno di fare un voto qualificato. Cioè, c'è tutta una procedura che deve essere seguita. Se si iniziava prima, era forse meglio. Invece, forse si è sperato che… Cosa è dovuta questa curiosa testardaggine, come l'ha definita lei? Ma, non so. Noi abbiamo una sindrome, spesso e volentieri, è dentro anni data nei nostri palazzi, di dover dimostrare all'Europa che ci comportiamo bene, no? Quante volte abbiamo fatto delle inutili austerità per dimostrare, per farci vedere affidabili o similari? Boh, non so. Vogliono farsi vedere... Non so. Farsi vedere austeri dall'Europa. Sto pensando che serva qualcosa, insomma, no? La sindrome del compiacimento nei confronti dell'Europa. Non lo so, eh? Non credo. Non so se sei d'accordo con il suo collega. Non credo, è evidente. In un posto dove i soldi non ci sono, chiaramente tirarli fuori è sempre molto complicato. Leo dicevo prima, togli… E lo so, no, nel senso, no. Delle modalità ci sarebbero, eh? Sì, figuriamo. Certo, si può scegliere di fare questo, però non è che si sceglie a cuor leggero, perché poi andiamo sempre fuori da tutti i nostri budget, però quando c'è una situazione d'emergenza di questo tipo è evidente che non credo che ci sia la possibilità di fare altro, quindi ora dobbiamo spingere su questo tutti, insomma, poi, vedo, siamo tutti d'accordo, insomma, partite la maggioranza, in questo caso anche dell'opposizione, insomma, perché tutti vediamo qual è la situazione di grande emergenza che si sta creando. Quindi è vero che il prezzo è quello lì e quindi è evidente che l'intervento va fatto, non è che si può diversificare. Quello è l'altro grande tema che possiamo affrontare, che è quello della diversificazione delle fonti di approvvigionamento e questa è un'altra, diciamo, è un'altra cosa che coincide… È una questione molto delicata. Però, ecco, in questo caso dobbiamo intervenire in altro modo, sulle accise, in modo veloce, ecco. Allora, cambiamo argomento, poi magari ci ritorniamo sul tema dei rincari, se non vuole aggiungere qualcosa all'onorevole. Sì, scusi, aggiungo un secondino, perché la questione delle accise è una roba che mi sta abbastanza a cuore, perché era uno dei nostri primi punti della campagna elettorale del 2018, e normalmente la gente dice, ma perché non l'avete fatto, anche quando eravate al governo con 5 stelle? Forse va ricordato, perché qualcuno pensa che siamo, non so, noi inadempienti o che era una promessa vana elettorale. Spendere per fare una cosa o spendere per fare un'altra era la stessa cosa. Non è stato fatto, perché il Movimento 5 Stelle è da sempre stato contrario, fortemente contrario, al taglio delle accise, perché la loro idea fissa era quella degli incentivi all'auto elettrica, e quindi tagliare le accise andava contro quel loro punto programmatico. Quindi non è stata un'inosservanza, un'inadempienza della Lega, quando si trovò il governo giallo-verde? In ogni caso abbiamo posto la questione delle accise, il Movimento 5 Stelle ha sempre detto no, e dato che il Movimento 5 Stelle c'ha il 40% in Parlamento, non si fa niente se loro non vogliono. Quindi il muro venne retto dal Movimento. Sì, tra l'altro io aggiungo a Chiosa, perché ora anche il discorso dell'elettrico, noi ogni tanto in Italia poi si va sulla, si prende un po' la tangente, no? Cioè l'elettrico da qualche parte l'energia si produce, no? E quindi non è che viene dalla Luna l'elettrico, diciamo facciamo le cose elettriche. Sì, per fare tanto elettrico devi fare tanta produzione di energia. Non abbiamo l'acqua, non abbiamo più l'energia che viene da... Perché, come sapete bene, le dighe, tutto quanto, era quel tipo di energia idroelettrica, non ce l'abbiamo più in Italia sostanzialmente. Abbiamo tutti coloro che si oppongono per il paesaggio, figuriamoci, da proteggere quanto vuole, ma insomma sulla parte dell'energia eolica, perché sono brutti gli impianti e quindi rovinano il paesaggio. Non vogliamo, non li vogliamo nel mare. Cioè noi siamo un paese anche di grandissime contraddizioni perché, insomma, diversifichiamo anche all'interno del nostro paese. L'elettrico sì, figuriamoci, energia pulita, eccetera, ma dobbiamo ricordarci che l'elettrico da un'altra parte, cioè non inquina qui, perché uso la macchina elettrica, ma inquina là perché da qualche parte si produce quella cosa. Quindi noi siamo sempre molto... Il paese delle grandi contraddizioni. E lei sa che io, un minimo, insomma, vengo dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, quando con i miei colleghi si parla di queste cose, ovviamente chi è esperto di questo dice signori, cerchiamo di rimanere con i piedi per terra. È pulito qui, ma è sporco là, nel senso che si produce da qualche parte questa energia con le solite fonti. Onorevole, mi sposto su un altro tema che è abbastanza delicato, ma che sicuramente riguarda da vicino la politica nazionale. In particolar modo, aggiungo come preludio questa provocazione, il Partito Democratico, grande manifestazione a Firenze, si è tenuta sabato scorso in Piazza Santa Croce, sotto legida di EuroCities. L'appello era stato lanciato dal primo cittadino del capoluogo di Regione Toscano, Dario Nardella, in qualità di vicepresidente di EuroCities. È intervenuto anche il presidente dell'Ucraina, Zelensky, che ha lanciato un appello a tutta l'Europa non lasciateci soli, non dimenticateci. All'interno della piazza, questa è un'analisi critica che è stata sollevata da altre rappresentanze, lei mi capisce, molte, oltre che bandiere della pace, perché quello sicuramente era l'intento principale, manifestare contro la guerra e la grande solidarietà di Firenze e di tutte le persone che si erano radunate in Piazza Santa Croce, però tantissime bandiere del Partito Democratico. Qualcuno l'ha definita una manifestazione autoreferenziale, perché comunque sia si era annunciata la presenza del presidente Gianni, si era annunciata la presenza del leader e segretario del partito Enrico Letta. È stata un po' una manifestazione del centro-sinistra, del Partito Democratico e della sinistra? Ma io sono stata in piazza e davvero ho visto tante persone e tanti cittadini che con i nostri partiti, è un po' a Firenze, tanta gente ovviamente la conosco da tanti anni, non c'entrano niente. Quindi indubbiamente il nostro partito ha aderito, è venuto Letta, quindi figuriamoci, abbiamo aderito con grande forza e c'eravamo in piazza, c'erano tante bandiere, certamente del Partito Democratico. Direi che però il taglio della manifestazione, infatti non ha parlato nessuno, ovviamente, il taglio della manifestazione è stato quello di dare la voce alle città, ai sindaci che hanno parlato in tanti, che in qualche modo li invitavano tutti alla pace. Cioè io ho notato questo, perché finalmente si dice cessate il fuoco. Cioè nella parte iniziale di questa nostra stagione drammatica di commento e di misure anche relativamente alla guerra, io ho sentito parlare poco nella prima fase del cessate il fuoco, perché è questo poi il tema forte di cui io sono convinta e che penso insomma si stia allargando anche come tipo di considerazione. Bisogna tornare e attivare davvero i tavoli della diplomazia. In quella piazza, sabato, c'era questo, c'era la richiesta dell'attivazione dei tavoli e questo è stato detto da tutti i sindaci che sono intervenuti, ovviamente da Nardella, ma era un po' quello che si sentiva nella piazza, come dire, grave, morribile aggressione. Figuriamoci, il popolo ucraino devastato da questo assalto assurdo, da questo assalto pazzesco, ma un attimo fermiamoci e cerchiamo di trattare, perché qui muoiono tutti e vengono distrutti tutti. Ci sarà un paese distrutto, dopodiché si comincia a trattare. Ecco, le ore contano in questo caso. Onorevole, questo era il principale intento di quella piazza e quindi manifestare la totale solidarietà e appellarsi al cessate le armi nei confronti di questa povera popolazione che sta affrontando purtroppo le atrocità e le violenze di questo conflitto o alla fine, come lettura un po' polemica, si è voluto in qualche modo, non dico strumentalizzare, ma camuffare una manifestazione della sinistra italiana? Qualcuno ha sostenuto tale tesi, non è che me la invento io. Ma sì, ma poi ognuno che organizza, è ovvio che chi organizza tende a colorare il tipo di manifestazione, ma non è questo il punto, insomma. Tornare in piazza è una bella cosa dal mio punto di vista, è un altro ritorno alla normalità. Al massimo si può notare che quando vengono organizzate dal Partito Democratico le manifestazioni va tutto bene, non ci sono contagi e viceversa. Altre manifestazioni trovavano il segretario eletta col dito puntato dicendo irresponsabili, andate in piazza che c'è il virus o così di questo tipo. va bene, ma mi fa piacere… Avevamo le mascherine, ci ha tenuto a ribadirle l'onorevole. Gli altri che spilavano avevano le mascherine, ciò nonostante venivano additati come irresponsabili. Ma non importa, è una buona cosa che anche dal parte del Partito Democratico si sia sdoganata adesso la possibilità di tornare insieme in piazza, perché la politica è anche questo, e per un motivo così nobile come la pace va benissimo. Senta, seconda provocazione prima di andare in pausa pubblicitaria e poi tornare concentrandosi sul conflitto tra Russia e Ucraina, ma poi magari gli ultimi minuti di trasmissione li dedichiamo alle infrastrutture, visto che è stato proclamato il progetto Render vincitore con il quale verrà ristrutturato lo Stadio Franchi. Il leader del suo partito, Matteo Salvini, ha passato una settimana, dieci giorni un po' complicati, prima l'iniziativa di recarsi al confine con l'Ucraina e in Polonia, poi la, definiamola così, pesante umiliazione che ha subito dal sindaco di questa città polacca, che francamente non ricordo bene, della quale non ricordo bene il nome, ma pesante umiliazione subita, questo lo riporto io non come giornalista, ma come cittadino italiano, perché a me le modalità non sono piaciute. Ecco, fosse stato Salvini, fosse stato Letta, fosse stato Conte, non cambia niente, poi vabbè si è conclusa, a parte la polemica sugli sponsor e il giubbotto, quella insomma abbastanza sterile, lasciamola da parte anche perché apparteneva ad una Ollus, se non sbaglio, poi addirittura tutto si è concluso e configurato col tapiro di striscia alla notizia. Tutto bene Salvini? Ma sì, giustamente lei dice che non si ricorda il sindaco e suppongo non sarà ricordato, ecco questo individuo che si è comportato in modo molto maleducato nei confronti di un cittadino in quel momento italiano, che era lì con l'intento di verificare di persona cosa stesse succedendo e questo gli va dato solo onore. Fino a quel momento lì di Salvini in Polonia non si era visto e saputo niente, era dato senza giornalisti a seguito, era andato senza stampa e similare, ha incontrato tante persone e poi hanno voluto fargli un agguattino, poi c'erano due fotografi di Piacenza, ecco, è abbastanza triste che due fotografi di Piacenza vadano in trasferta per contestare Salvini in Polonia. Ma, ripeto, lasciamo perdere, non sono sicuramente queste le preoccupazioni in questo momento del mondo, ecco. Un agguattino, così l'ha definito l'onorevole Borghi, poi vorrei sentire anche Rosa Maria Di Giorgi, su questa visita non andata a buon fine di Salvini in Polonia. Ci fermiamo per pochi secondi, poi di nuovo qui. Con il sindaco, ecco, giusto per capire, no? Quindi se lo invitano e poi lo invitano con una maglietta pronta... Un agguattino, un agguattino, io riprendo il virgolettato, onorevole. Ci fermiamo per pochi secondi, poi terza ed ultima parte di Rassania Stampa, tra poco. Un agguattino, 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 un agguattino Grazie.